La prima volta che andai al Fostudio ero ancora al liceo. Mi viene in mente da pensare che poi nella vita la mia fortuna, la mia soddisfazione è stata quella di incontrare periodicamente delle grandi persone. Te la ricordi Lella? Edoardo De Angelis voleva smettere di cantarla ma ha dovuto cambiare idea. Il cantautore romano si racconta a Città Futura TV, canale 641. Lella è una canzone che appartiene, è entrata anche nel mio malgrado, nel mio DNA quindi certamente canterò ancora Lella. Edoardo De Angelis mi ritorna in mente. Edoardo De Angelis Grazie. Grazie. Grazie.